Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore, Maria De Filippi è stata protagonista di una relazione segreta, un qualcosa che non ha rivelato mai a nessuno fino a quando non si è trovata con le spalle al muro La conferma arriva direttamente da un celebre cantante italiano che all'improvviso si è trovato al centro di un triangolo amoroso Scopriamo insieme qualcosa di più.Quando pensiamo ad una grandissima conduttrice, immediatamente ci viene in mente lei, la celebre Maria De Filippi, moglie di un altro grande volto del mondo dello spettacolo, Maurizio Costanzo Era il 28 agosto del 1995 il giorno in cui sono convolati a nozze dopo essersi frequentati per cinque anni Un matrimonio celebrato da Francesco Ortelli, un uomo che all'epoca ricoprire il ruolo di sindaco di Roma Una famiglia perfetta in cui non manca nemmeno un figlio, un ragazzo di nome Gabriele che hanno adottato nel 2004 L'attentato alla vita della coppia.Costanzo e la De Filippi, in passato sono stati nel mirine di Cosa Nostra Nel 1993 furono bersagliati dalla criminalità organizzata la quale aveva come scopo quello di colpire il giornalista a causa delle sue posizioni contro la mafia Un attentato fatto da un'autobomba parcheggiata in via Ruggero Fauru in cui erano presenti 70 kg di tritolo Era proprio quello il luogo in cui si registravano le puntate del Maurizio Costanzo Schott Un attentato in cui fortunatamente non vi furono vittime Complice di sicuro fu l'incertezza del sicario che si trovò privo spiazzato nel momento in cui vide la coppia a bordo di un veicolo diverso Un attentato che però causò dei feriti tra cui la guardia del corpo della coppia e l'autista oltre ai numerosi danni alle auto e agli edifici intorno È stato questo un difficile evento per Maria De Filippi che ha impiegato molto tempo per riprendersi anche se ha sempre mantenuto intatta la sua empatia e il suo carisma L'amore segreto di Maria De Filippi.Quello che c'è tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo un amore genuino, un qualcosa che oggi si vede raramente nelle coppie moderni Nonostante ciò, la conduttrice ha rivelato di avere un amore segreto, uno scoop che ha lasciato tutti senza parole Il loro incontro avvenne sul posto di lavoro, un colpo di fulmine che spinse Costanzo a volerla al suo fianco come assistente Per un certo periodo scelsero addirittura di vivere in segreto la loro love story Un celebre cantante ha reso pubblico un aneddoto riguardo a quel periodo in cui si frequentava di nascosto Stiamo parlando di Max Pezzali, un artista che è a conoscenza di un qualcosa che è accaduto nel momento in cui Costanzo era sposato con Marta Flavie e coltivava, allo stesso tempo, una relazione clandestina con la De Filippi Ecco la sua rivelazione, non ero ancora famoso come cantante e lavoravo nel negozio di Fiori dei Miei Un giorno mi è capitato di fare una consegna a Maria, il mittente era Costanzo Ovviamente nessuno sapeva ancora della relazione In quegli anni solo lui era a conoscenza di questa storia d'amore nascosta anche se ha sempre tenuto tutto per sé fino a quando i due non hanno scelto di uscire allo scoperto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video Fino a quando ci incontriamo nuovamente